Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Tra i banchi di scuola possono nascere dei momenti magici, ma è solo con la complicità del buio che gli spiriti possono scatenarsi davvero. Magari giocando a dei classici senza tempo. Un gioco in cui delle verità non frega mai niente a nessuno, mentre gli obblighi vanno tutti in una direzione. E come in ogni gioco che si rispetti, c'è sempre qualcuno alle prime armi. Baccia! 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 Ha dato un triunfo verso questa fregna! Stasera abbiamo fatto perdoni. Dal sogno dei baci altrui all'incubo del risveglio. del futuro. Ma guarda se non è possibile usare un'eロge. Se non è venuta a cercare di sapere, quindi, un punto di spazare. Ma guarda se non costruisce un'e Grazie.